Buongiorno, sono Menel Badi, sono della redazione dell'Istituto Donati di Fossombrone e oggi siamo qua a Urbino per documentare l'accordo tra il professor Pascucci e la nostra direttrice scolastica. Di cosa si tratta questo progetto? Allora, questo protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino e l'Istituto Donati è un accordo con il quale i nostri due enti assumono degli impegni di collaborare piuttosto stabilmente per valorizzare la formazione dei nostri rispettivi studenti e anche per valorizzare l'orientamento degli studenti soprattutto dell'Istituto Donati, mettendo a disposizione delle classi, in particolare le ultime, quelle più prossime diciamo all'uscita dal percorso scolastico, mettendo a loro disposizione delle attività formative che possano essere utili naturalmente per valorizzare le conoscenze che loro hanno acquisito durante il loro percorso di studi attraverso approfondimenti seminariali come abbiamo già fatto nel corso di questi mesi attraverso una serie di seminari in materia di lavoro e di diritto del lavoro al quale hanno partecipato numerosi studenti dell'Istituto Donati quindi si tratta sostanzialmente della realizzazione di una forma di cooperazione formativa e orientativa che fa emergere l'interesse di entrambe le nostre istituzioni per una collaborazione che va al di là di quelle che sono le singole specificità dei nostri istituti convinti come siamo che effettivamente sia appunto attraverso forme di collaborazione che si aprono al mondo esterno che le attività principali di cui si occupano i nostri istituti i nostri enti possano effettivamente trarre giovamento Benissimo, invece lei signora Preside perché ha deciso di avviare questa iniziativa con queste università? Allora il motivo principale l'ha già detto il professore e credo molto nell'aspetto relativo all'orientamento degli studenti sia nell'ambito della scelta universitaria che nell'ambito proprio della vita perché l'approfondimento attraverso questi seminari risulta essere un ampliamento dell'offerta formativa che cala nella realtà alcuni argomenti che sono oggetto di studio per i ragazzi e tra l'altro è vero sì che sono fatti qui organizzati dalla facoltà di giurisprudenza ma in realtà il ventaglio e lo specchio di argomenti e di tematiche che si trattano sono così ampie che costituiscono anche un vero e proprio orientamento anche ai fini della scelta universitaria sono previste per il futuro altri seminari, saranno previsti, sono previste attività di tutoraggio dei ragazzi di giurisprudenza con i ragazzi del Donati e tante altre attività che in maniera molto brillante la professoressa Campanella la professoressa Battistelli e Moretti del nostro istituto pongono in essere di volta in volta e che quindi sperimenteremo nel corso dei prossimi anni accademici e scolastici hanno nomi diversi però di fatto la stessa cosa sono e da parte mia anche il convincimento che vada valorizzato l'Ateneo sul quale geograficamente insiste il nostro istituto io credo molto in questo, ho un senso di appartenenza molto spiccato ritengo che le eccellenze ci siano dappertutto e se noi ce le abbiamo a due passi bisogna che apriamo gli occhi e impariamo a riconoscerle e poi ovviamente ciascuno farà le proprie scelte però bisogna cominciare a guardare da quello che si ha vicino Benissimo, salutiamo dall'Università di Urbino ringraziamo il professor Pascucci e la nostra direttrice Grazie